Un Consiglio che ottimizza gli spazi affronta con risorse umane ed economiche sempre più razionalizzate la sfida delle nuove competenze. E' questo in sintesi il ritratto dell'Assemblea regionale all'inizio della decima legislatura, presentato nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno. I numeri ci dicono che negli ultimi anni, nella comparazione del bilancio preventivo tra il 2013 e il 2016, il Consiglio regionale ha imboccato una strada, secondo me, lodevole e virtuosa. Sia da un punto di vista della trasparenza, sia da un punto di vista di efficientamento delle risorse. C'è un'ottimizzazione ancora dal 2015 verso il 2016, che ha un importo di circa 3 milioni e poi un'efficienza su tutto. Sia quindi sugli affitti, l'ottimizzazione e la valorizzazione degli spazi storici che ci ospitano qui, parlo di Palazzo Lascaris. La dotazione organica che passa da 422 a 323, quindi circa 100 persone in meno, con un aumento di competenze. E qui complimenti a tutti i direttori, ai dipendenti, a partire dall'ultimo uscire fino al primo dirigente. Grazie all'attività delle consulte, il Consiglio regionale si è aperto al territorio, alle scuole, agli amministratori e alle tante associazioni che operano nella regione. Direi la novità e la parte importante è quella legata alla formazione degli amministratori, alla formazione dei funzionari nei comuni. L'obiettivo importantissimo che si desidera raggiungere è formare sia gli amministratori che i funzionari alla grande sfida dei bandi comunitari, cercare di concorrere per riuscire ad avere le risorse sul territorio. L'altra soddisfazione è legata al coinvolgimento delle associazioni che hanno partecipato, si sono offerte, siamo riusciti a costruire momenti anche in questo caso nei confronti dei ragazzi e degli adulti su temi importanti, dalla violenza delle donne alle donne, ai temi legati all'alcolismo, alle disabilità, all'inclusione e alla protezione civile. Sotto il piano politico è stato sottolineato il clima costruttivo soprattutto nei lavori dell'Assemblea regionale. Mi pare che ci sia un atteggiamento, un clima completamente diverso. I consiglieri regionali hanno quasi tutti una buona esperienza amministrativa, hanno fatto i sindaci dei loro comuni, i presidenti delle province, la gancia presente della provincia di Cuneo, il Sozzani presente della provincia di Novara, il Movimento 5 Stelle che non ha avuto ovviamente perché è nato da poco esperienza amministrativa, però sono tutti i giovani che studiano e che mostrano competenza e disponibilità al lavoro. Questo ha consentito un clima all'interno del Consiglio in cui lo scontro non è praticamente assistito, in cui è assistito il confronto, la voglia di lavorare, ognuno naturalmente con la sua posizione e cercando di tirare l'acqua al proprio mulino, ma mi pare che in qualche modo sia stato il mulino dei piemontesi.